La documentazione filmata dei luoghi attraversati dal monolito destinato al Foro Mussolini, girata dagli operatori del Distituto Nazionale Luce, che accompagnano l'imponente blocco di marmo dalla cava alla destinazione definitiva, dà una prova convincente di cosa potesse essere allora il racconto a puntate di una grande opera collettiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!